Grazie a tutti. L'acqua è essenziale per la vita, per le cose che facciamo ed è indispensabile per produrre la carta. Il nostro è un paese che nella produzione della carta ha un'antichissima tradizione, che poi assieme a voi molto rapidamente vorrò ricordare, ed è data appunto dalla presenza dei corsi d'acqua. Corsi d'acqua che servivano per i mulini, ma servivano per le guarcherie e servivano anche per le cartiere. Quindi parlare in fondo adesso del tempo delle cose legato in particolare a un materiale, come quello della carta, vuol dire fare anche, come si può dire, un'esplorazione di quanto è strettamente legato questo materiale a quello che è non solo la storia sociale e economica del paese, ma anche l'evoluzione naturale. E per chiarire subito un punto indispensabile, tenete conto che quando noi parliamo di questo materiale, in realtà noi parliamo, tra le altre cose, di due principi che oggi sono davvero strategici. Il primo principio è la biodegradabilità. Questo è un materiale che si biodegrada naturalmente perché proviene naturalmente, da che cosa? Dalla cellulosa in questo caso, ma vedremo poi anche da altre componenti nella serie storica. Ed è un materiale che si ricicla facilmente. Io cercherò di usare qualche immagine per capirci forse un pochino meglio, in modo forse anche un po' diverso, insomma, rispetto ai soliti temi. Qui vedete un Buddha e naturalmente vi chiederete ma che cosa c'entra il Buddha con il racconto di cui vi ho appena parlato? C'entra molto. Allora, partiamo da un dato di fatto. Ogni italiano che ogni giorno dedica due minuti alla raccolta differenziata, perché questo è il tempo, quindi è il tempo modestissimo, in quel tempo che si dedica alla raccolta differenziata di carte e cartone, inconsapevolmente, fa un atto di fede buddista. Perché, come è noto, la religione buddista ha un principio fondamentale che è la reincarnazione. E in effetti, la carta o cartone che, con questo piccolo gesto quotidiano, noi mettiamo nella raccolta differenziata, ha la possibilità di reincarnarsi per sette volte. Come questa filosofia o religione ci dice che la reincarnazione può avvenire sotto forme diverse, la stessa identica cosa, per esempio a differenza del vetro, avviene per quanto riguarda carte e cartone. Cioè, quello che noi mettiamo nella raccolta differenziata che facciamo nel nostro comune, ed è un giornale, si può trasformare nel processo di lavorazione in un sacchetto, piuttosto che in un sacchetto in una scatola, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, da questo punto di vista, facciamo un'operazione molto importante che va al di là della meccanica che ogni giorno ormai abbiamo preso l'abitudine di fare. E questo atto è talmente importante perché il nostro paese, l'Italia, è un paese che è ricco di boschi poveri. Cioè, questa reincarnazione è una reincarnazione che parte da un presupposto, evidentemente, che ha a che vedere con l'economia. Dicevo all'inizio, la carta proviene da una fibra che è la cellulosa. Un paese come il nostro non la produce cellulosa. Ci fu, negli anni 30, quindi durante il regime, una scelta che era di natura strategica, la carta è la base dell'informazione, evidentemente, in quel periodo in modo, direi, essenziale, oggi molto meno, e quindi è così strategica che deve essere tutelata come uno degli interessi nazionali. Il regime allora decise che, attraverso un ente che si chiamò Internazionale Carta Cellulosa, l'Italia si trasformasse in un sistema forestale idoneo per produrre la cellulosa. Fu un fallimento totale. questo ente fu, fortunatamente, sciolto negli anni 90 del secolo scorso, perché di fatto non aveva raggiunto nessun obiettivo se non quello di acquistare, tra le altre cose, delle fazzende in Brasile. Quindi uno dei tanti, diciamo, malaffari del nostro paese. Ma il punto di fondo che volevo adesso sottolineare è che, essendo però molto ricchi di boschi, perché questo è vero, non produciamo la fibra vergine. Quindi abbiamo una necessità, una necessità evidentemente economica, di trovare delle forme diverse. E allora guardiamo nel passato che cosa è successo da questo punto di vista. Abbiamo cominciato a produrre Carta con gli stracci. C'è un bellissimo libro che è Carta e stracci, che racconta come il nostro paese si era talmente organizzato nella raccolta degli stracci che erano sostanzialmente in mano al monopolio di due grandi comunità ebraiche, quella di Livorno e quella di Ancona, che a un certo punto fu necessario da parte del papato, primo caso, per quanto riguarda la storia economica, di introdurre dopo la metà del Settecento un'ordinanza per impedire l'esportazione degli stracci in Olanda. Questo che cosa determinò? Determinò una situazione evidentemente significativa per capire quanto era essenziale attraverso la produzione degli stracci e verso un consumo, soprattutto di tipo culturale, della carta, produzione dei libri, quanto fosse essenziale trovare una materia seconda che permettesse la produzione dei fogli di carta. Tenete conto che per quanto riguarda gli stracci, allora si determinarono più di 30 qualità tra loro diverse, quelle evidentemente con una fibra lunga del tessuto e quelle invece più lise. Il caso ci dice che oggi, quando arriveremo a parlare poi appunto dell'essenzialità della carta e del cartone da raccolta, oggi le tipologie di macero sono esattamente nel numero le stesse degli stracci. Cioè le caratteristiche che aveva allora quel tipo di materiale è esattamente classificato nello stesso modo in cui oggi sono classificati i maceri. Dicevo che è una storia affascinante perché quest'ordinanza avrebbe dovuto impedire che dai porti di Ancona e di Livorno partissero i bastimenti verso l'Olanda, perché l'Olanda allora era la capitale dal punto di vista anche della produzione libraria e quindi aveva una domanda di materia prima per poter produrre la carta e molto più importante di quanta era in grado di recuperarne. che cosa è successo nella storia sempre del nostro paese? Il nostro paese è un paese che è nato agricolo fino sostanzialmente agli anni 50 e che cosa si è trovato per il nostro paese sempre povero di materia prima, di cellulosa? Si è trovato che poteva essere importante per produrre la carta utilizzare gli scarti agricoli naturalmente alcuni dei presenti ricorderanno la carta paglia perché probabilmente hanno avuto anche da bambini l'occasione di entrare in una drogheria, in una posteria e prendere il cartoccio nel quale venivano messi la pasta piuttosto che lo zucchero che era fatta con questa carta paglia adesso la carta paglia ha preso tutto un altro tipo di utilizzo soprattutto nella ristorazione per dare un tono anche se volete un po' raffinato ma tenete sempre conto che la carta paglia viene realizzata da scarti agricoli e allora aveva un uso di largissimo consumo per le modalità di imballaggio soprattutto negli acquisti presso i negozi Scarti agricoli Questi scarti agricoli rappresentano una straordinaria opportunità che viene particolarmente poi raffinata attraverso anche i passaggi dovuti all'autarchia le guerre, prima e seconda guerra mondiale per arrivare poi a un momento per il quale non sarà più possibile utilizzarla perché non ha le caratteristiche per rispondere alle domande che arrivano dai nuovi consumi e per i problemi ambientali che comporta e che cosa succede? succede che alla fine degli anni 50 il nostro paese entra in quella che è stato chiamato il boom entra in una fase in cui i consumi diventano consumi di massa significativi il nostro diventa un paese fortemente esportatore e quindi ha bisogno di imballaggi alla fine degli anni 50 avvengono due cose importantissime da una parte abbiamo l'ingegner Natta che è l'inventore della plastica molti ricorderanno Moplen e la pubblicità con Gino Bramieri ma guardate l'applicazione della plastica soprattutto avrà a che vedere con gli imballaggi e non casualmente oggi ci si pone il problema di come gestire la plastica perché quella che finisce negli oceani e nei mari è soprattutto una plastica che deriva da un utilizzo nell'imballaggio negli anni 50 abbiamo quindi questa straordinaria scoperta dall'altro ne abbiamo un'altra di natura tecnologica c'è bisogno di far viaggiare i televisori, i frigoriferi e mille altre cose cosa può fare l'industria cartaria? quello che può fare è produrre questi imballaggi utilizzando carta e cartone di raccolta quindi entriamo nella fase che è quella che oggi conosciamo dell'industria del riciclo di carta e cartone a base macero è il grande salto in avanti quello che modifica in modo strutturale l'industria cartaria italiana e poi avrà un suo momento particolarmente significativo quando con le nuove tecnologie la carta da stampa per uso grafico avrà un serio significativo crollo e il settore dell'imballaggio in carta e cartone diventerà e oggi il settore più importante che abbiamo all'interno della filiera della carta e del cartone quindi una sostituzione siamo passati dalla produzione della carta come piattaforma culturale a una fase nuova dove pur rimanendo evidentemente la carta e rimarrà secondo me per lungo lungo tempo comunque una piattaforma indispensabile siamo però passati all'uso e meglio alla produzione e poi all'uso di quello che si chiama packaging dell'imballaggio ecco questo passaggio è il passaggio per portarci alla prima immagine del Buddha che mette in movimento quel rapporto che diventerà sempre più significativo tra industria in questo caso di carta e cartone e società e comunità locale è molto importante legare questi momenti perché? perché quando alla fine degli anni 50 abbiamo questo straordinario cambiamento l'industria cartaria deve trovare questa carta e cartone per poterla riciclare la trova all'interno di quelli che sono i circuiti di tipo commerciale e industriale perché è quasi obbligatorio raccoglierla all'interno delle aziende gli spridi ma deve ricorrere sempre di più alle importazioni dall'estero quindi non importiamo se non in misura molto modesta e cellulosa ma importiamo in misura significativa carta da macero soprattutto le rese dei quotidiani straordinarie quelle soprattutto americane e russe quelle poi russe enormi perché immaginate eravamo in un regime sovietico e io ricordo la mia prima esperienza di lavoro a Magenta che per la prima volta vedo e mi accompagnano per vedere lo stabilimento a Magenta c'è un insediamento storico importantissimo che si chiamava Sappa producevano fiammitoli a un certo punto si accorgono che con i fiammiferi c'era poco da fare e riconvertono l'intero impianto industriale sostanzialmente alla produzione di carta per imballaggio bene io vado a Magenta e ricordo il primo impatto fortissimo che mi fanno passare attraverso questo corridoio e ai due lati c'erano queste torri fatti da una parte dal New York Times e dall'altra dalla Prata perché era quello di cui avevano bisogno quindi noi italiani dell'industria cartaria cominciamo a diventare come si può dire grandi consumatori di carta dall'estero e che cosa succede? che questo naturalmente rappresenta un problema serio stiamo parlando di oltre un milione di tonnellate che venivano regolarmente importate importate e soggette come il petrolio quindi come quelle che si chiamano commodities all'andamento e all'oscillazione dei mercati quando siamo alla guerra dei sei giorni che cosa succede? che il prezzo del petrolio schizza e in modo molto importante si rimettono in moto tutte quelle piccole raccolte che ricorderanno molte di voi avvenivano fatte dalla croce rossa o dall'oratorio che però erano di tipo saltuario non avevano una continuità con la guerra dei sei giorni invece per quello che avviene dal punto di vista dei prezzi dei nori marittimi si importava attraverso le navi soprattutto comincia a diventare interessante ritornare alla raccolta siamo quindi nei primi anni 70 alla raccolta anche presso le famiglie attraverso queste forme di volontariato e che cosa determina questa situazione? Una sensibilità la prima che almeno io ho riscontrato attraverso una ricognizione anche di documenti determina una forte sensibilità da parte di alcuni amministratori pubblici uno in particolare che non c'è più ormai da anni che si chiamava Rube Striva che era il sindaco di Modena il quale vede che c'è tutto questo darsi da fare per la raccolta della carta e si chiede ma non è il caso che ci pensi il comune ad organizzare questa raccolta quindi siamo tra 72 e 73 la prima raccolta differenziata che viene organizzata nasce per un fatto economico cioè un sindaco che dice ma forse ci conviene fare una noia questa raccolta e quindi organizza la prima rete è il primo segnale durante la guerra c'era stata un'obbligatorietà di raccogliere perché eravamo in un regime di autarchia quindi diciamo così c'era una costrizione nella raccolta anche della carta proprio perché vi era una necessità bellica di sopravvivenza ma è un periodo molto limitato e ormai perso anzi quel tipo di raccolta era vissuta appunto come una costrizione di guerra questa invece che parte da Modena ha un carattere completamente diverso è la sensibilità di un amministratore che coglie un determinato momento storico e pensa che questa opportunità valga la pena di coltivarla lì abbiamo il primo caso ce ne saranno altri ma prima che diventi un sistema ci vorrà un sacco un sacco di tempo naturalmente tutto questo che cosa vuol dire vuol dire che il nostro paese diventa dal punto di vista dell'industria cartaglia un paese che ha sempre più bisogno soprattutto per la crescita dell'esportazione all'estero ma anche dei consumi interni di trovare materia prima seconda per realizzare quegli imballaggi che sono essenziali allora non si poneva nessuno il problema di che cosa sarebbe sarebbe stato dal punto di vista dell'ambiente non era una domanda che ci si poneva si faceva la raccolta della carta perché era una necessità dal punto di vista economico punto e basta e che cosa capita in questo contesto una cosa secondo me davvero molto interessante e assolutamente originale per quello che ho potuto verificare 1985 siamo circa dieci anni dopo l'episodio di Ruba Estrela siamo esattamente il 15 aprile del 1985 presso un notaio di Milano si ritrovano 15 imprenditori sono tutti imprenditori della carta e decidono davanti al notaio di sottoscrivere tutti e 15 l'atto di fondazione del comico ma perché questi 15 si ritrovano per fondare il comico che sta per comitato per l'imballo ecologico si ritrovano per disperazione letteralmente per disperazione disperazione dal punto di vista delle prospettive industriali del loro futuro delle loro famiglie perché quell'anno è uno degli anni più significativi di quel decennio in cui si raggiungono le punte massime dell'usegetta è il momento più elevato dal punto di vista della cultura consumistica che basava il consumo su sostanzialmente una rapina prendo un oggetto lo utilizzo e poi l'oggetto tanto ce ne sarà un altro che ritrovo andando al supermercato questi imprenditori si ritrovano invece e fondano il Comieco perché perché sentendo seriamente in crisi la prospettiva dal punto di vista delle loro aziende c'è una sequenza per capirci molti di voi avranno visto il laureato con Dustin Hoffman immagino non so quanti di voi ricordano le prime immagini c'è Dustin Hoffman che si è appunto laureato che casa la propria una villa di Los Angeles in piscina e chiede allo zio ma io adesso che sono laureato cosa faccio lo zio non è che mi fa un discorso solo dice solo una parola plastics tu devi lavorare nella plastica quello è il tuo futuro non ci sono storie lì che bisogna andare perché il mondo viaggia in questa direzione cosa fanno questi 15 disgraziati pensano che sia indispensabile capire se c'è un futuro conviene vendere le aziende e quindi viene commissionata una ricerca pensate che la ricerca è coordinata da dal professor Alberoni che è molto noto credo ancora oggi per tutta la sua storia dell'innamoramento eccetera il professor Alberoni però non è solo quella cosa nell'85 coordina questo lavoro che arriva alla conclusione non avete futuro rivolto a questi industriali non avete futuro a meno che voi non puntiate su due elementi che sono specifici del vostro materiale la biodegradabilità e la riciclabilità perché? perché il tempo andrà in questa direzione perché il diciamo quello che era il rapporto che era stato fatto all'inizio degli anni 70 da quel club di Roma già segnalava che ci c'erano problemi serissimi sotto la tenuta della quanto riguardava il mondo per alcuni elementi connessi all'equilibrio ambientale quindi il tema dei rifiuti era uno di questi ma guardate che questo era diciamo un patrimonio tipo culturale veramente di elite circoscritte molto circoscritte la politica non sapeva neanche che cosa stesse parlando i verdi non esistevano e però in questo caso c'è un atto di fede richiamandoci sempre al Bunda la fede cioè che in effetti c'è una possibilità che è data da questo materiale che si rinnova che si rincarna e fondano il comitato per il valle economico allora dovete sapere che quando comincia a muoversi il comieco l'industria cartale italiana importava 1.300.000 tonnellate questo 1.300.000 tonnellate rimarrà sino al 2005 e rimarrà sino a quel periodo perché perché i tempi di costruzione di un sistema che mettesse in movimento la rete che poi è la rete delle raccolte differenziate chiederà più di un decennio il comieco si muove subito cercando di individuare alcune amministrazioni più sensibili e trova un interlocutore che spinto dall'emergenza reagisce in modo molto positivo ed è Milano voi ricordate che Milano si è trovato in una fase emergenziale alla metà degli anni 90 c'erano lungo i marciapiedi i sacchi neri perché non si sapeva dove poterli gestire era stata chiusa la discarica di Gerenzano si era aperta una delle tante inchieste di malaffare nel sistema di gestione dei rifiuti era molto semplice ma confermo che ancora oggi qualche realtà del sud rimane era molto semplice il criterio corruttivo è tanto al chilo tu la mandavi nella mia discarica e sapevi che tanto al chilo di quei rifiuti era messo da parte per i tuoi interessi quindi vi era una alleanza veramente malata tra chi aveva degli interessi appunto molto opachi e un'abitudine che era quella dei cittadini che non volevano avere problemi diciamo ma come io butto via la cosa metto lì non bisogna pensare di fare organizzare e devo dire che io trovai in quella situazione di emergenza amministratori e di solito nelle emergenze vengono fuori gli amministratori solitamente quelli che hanno più 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 nervo nel caso specifico lì c'è un amministratore con del nervo a Milano che ha deciso di dire rompiamo questa logica proviamo con un sistema nuovo che funzionò iniziò porta a porta ma siamo nel 95 85 è fondato con Mieco nel 95 c'è questa emergenza ci sono dei risultati concreti tanto concreti che io ricordo una persona deliziosa e veramente anche trasparente che era il responsabile degli acquisti della sempre Saffa perché allora si chiamava ancora Saffa che non ci credeva diciamo impossibile i milanesi non sono in grado perdiamo del tempo a fare questa cosa qui non sono mica come quelli che stanno a Monaco di Baviera perché lì si prendeva la carta o a Zuligo o ad Amsterdam arriva anche ad Amsterdam non sono capaci di fare la raccolta differenziata e ricordo questo signore che quando vide arrivare i primi camion rimase a Saffa e dice ma no non è possibile non è possibile che ci sia diciamo la possibilità di organizzare questo sistema e invece ci fu dei risultati cominciarono a essere evidenti che era possibile fare bene quello che aveva intuito Rubestriva nel 72-73 che era farlo bene su una realtà urbana complessa come una grande città ma che rappresentava anche quello che noi oggi chiamiamo i boschi urbani cioè il boscaiolo non è più quello che abbatte le piante di cui una parte viene utilizzata per la cellulosa e un'altra parte che è la più significativa finisce invece nelle attività connesse all'arretamento ma nel caso specifico il boscaiolo è quello che fa la raccolta differenziata cioè semplicemente separa carta e cartone e lo mette nel contenitore che il suo comune ha deciso di utilizzare detto questo e vista questa esperienza avviene una rivoluzione l'Italia ha avuto poche rivoluzioni negli ultimi anni io personalmente ne vedo due di facile comprensione una è quella che ci ha permesso di poter andare al ristorante al cinema e non trovare più nessuno che fuma e quella è stata una rivoluzione grandiosa non ha avuto bisogno né di gendarmi né di barricate è stato il controllo sociale l'altra rivoluzione più complessa è stata l'Europa se l'Europa non fosse intervenuta con un provvedimento che si chiama direttiva tra l'altro il relatore un italiano un milanese arioso perché era Luigi Dertemati noi non saremmo dove oggi siamo perché è molto importante ricordare queste cose soprattutto in momenti in cui si perdono alcuni punti di riferimento l'Italia che è un paese straordinario che come avete visto nel campo per esempio dell'utilizzo delle materie prime e seconde non è secondo nessuno l'industria del riciclo italiana ogni anno utilizza più di 40 milioni di tonnellate è l'unica industria che in tutti questi anni quelli che abbiamo alle spalle ha sempre avuto un segno più più fatturato più occupazione perché è connaturata al nostro DNA dai rottami di ferro alla carta al vetro ai pneumatici siamo veramente un paese straordinariamente evocato ma siamo anche un paese molto complicato nel riuscire a far mettere d'accordo tutti e quindi le normative sono sempre un grande problema quando dall'Europa arriva la direttiva sugli imballaggi cui il relatore è un italiano e peraltro della nostra provincia si innesca un meccanismo molto interessante un meccanismo che dà vita per legge a un sistema che è un sistema che si chiama CONAI che come anticipavano prima è un sistema è un sistema di natura privatistica ma con miracolo nel nostro paese si basa sul principio che il sistema economico quindi l'industria la distribuzione si deve preoccupare di raggiungere gli obiettivi che ha stabilito l'autorità pubblica quindi ha degli obblighi che deve rispettare e l'autorità pubblica mantiene il proprio ruolo nel controllare che ciò che ha stabilito venga raggiunto caso unico perché non abbiamo un'intromissione del pubblico che entra dentro il privato come la storia del nostro paese è ricchissima e anche oggi non sono pochi quelli che chiedono un ritorno dello Stato qui abbiamo un sistema che ha questo equilibrio e vi assicuro le difficoltà per metterlo in movimento perché nel momento in cui ci si assume come privati questa responsabilità abbiamo trovato anche le risorse per farlo gestire il sindaco di Abbiategrasso riceve come altri sindaci direttamente o tramite la società di servizio adesso a caso specifico non lo conosco riceve regolarmente dei bonifici dai consorzi per l'attività di raccolta del materiale di propria aspettanza per la carta e Comieco che fa i bonifici lo scorso anno abbiamo bonificato 110 milioni ai comuni italiani oltre evidentemente l'obbligatorietà di ritirare il materiale isole comprense io ho iniziato una volta che il Comieco si è trasformato in consorzio nel sistema della direttiva europea una delle prime iniziative che ho fatto è stata con l'isola di Pantelleria perché in l'isola di Pantelleria c'era un sindaco in gamba e c'erano dei ragazzi che avevano organizzato la raccolta differenziata e il loro problema era come riusciamo poi questo a mandarlo a riciclare e quindi si è posto il problema di garantire a loro il nolo marittimo perché questo fosse imbarcato portato in continente e poi evidentemente riciclato dico tutte queste cose perché questa rivoluzione che parte con la direttiva europea cambia cambia veramente in modo importante dà vita a dei consorzi nel caso nostro e questo è del Comieco che mantiene il suo acronimo perché aveva una storia alle spalle piuttosto singolare e che però insieme agli altri materiali comincia a creare un vero e proprio sistema nazionale un sistema nazionale perché il tempo delle cose nel caso nostro degli imballaggi non sia un tempo con una scadenza definita ma possa continuare attraverso una rigenerazione che può avvenire in forme tra loro diverse come prima cercavo di dirgli e qui avete attraverso questa immagine una sostanzialmente la circolarità che abbiamo all'interno del sistema della carta tenete conto che sono consorziate 3.300 aziende quindi rappresentano l'intero panorama e queste aziende sono articolate lungo tutto il nostro paese per permettere evidentemente di da una parte riciclare ma poi anche di trasformare e a proposito di riciclo vi ricordate che vi dicevo all'inizio come la storia da questo punto di vista in modo interessante si ripete più di 30 le tipologie degli stracci ho detto più di 30 sono attualmente quelle dei marci bene tutte queste diciamo diverse tipologie hanno però la necessità di essere amalgamate attraverso delle ricette e le ricette vengono studiate per realizzare poi un prodotto la carta i fogli di carta i fogli di cartoncino di cartone che siano adatte ovviamente alla domanda industriale che si propone e questo cosa significa? significa che quando voi entrate in uno stabilimento quindi in una cartiera e incontrate il direttore dello stabilimento dovete sempre pensare che questo signore è in testa al cappello del cuoco perché la vera abilità sta nel fare la ricetta cioè nel scegliere quali sono le diverse qualità di macero che possono essere tra di loro amalgamate per realizzare quella bobina di carto e cartone che servirà poi allo scatomificio eccetera 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 pensate che fino a vent'anni fa mancando delle macchine che potessero riconoscere la qualità all'interno delle cartiere c'erano gli operai assaggiatori come i sommelier cioè alcune persone che avevano una particolare capacità per poter assaggiare un pezzo di carta capire se l'impasto era stato fatto nel modo giusto quindi capite la complessità di un mondo che ha un elemento naturalmente tecnologicamente molto avanzato adesso sono le macchine in gran parte che lo fanno ma un rapporto così fisico che è strettamente legato anche all'origine di questo materiale ed è un aspetto molto rilevante che invito sempre a tenere un po' presente perché anche la fisicità delle cose è significativa per capire il valore del tempo che queste cose devono avere se noi non abbiamo un rapporto fisico non ne conosciamo la fisicità diventa complicato ecco uno dei grandi problemi della plastica uno dei grandi problemi della plastica è che è stata straordinaria l'invenzione ma un'invenzione che ha dato vita a una possibilità di creare una serie di catene polimeriche tra loro così diverse che oggi rendono estremamente complicato riuscire poi a riciclarle perché sono così tra di loro diverse perché la scelta che era stata fatta a suo tempo era quella di non porsi il problema di immaginare una compatibilità una volta terminato il suo uso ecco perché c'è una grandissima attenzione delle grandi multinazionali per esempio sui contenitori per bevande è una grande spinta a omologarle secondo una sola caratteristica di catena molecolare che è il PET perché qui si sa che cosa puoi quale altra vita si può dare e mi permetto sto arrivando alla conclusione mi permetto anche una breve come si può dire parentesi non credo che sia ragionevole immaginare che cosa un istituto di ricerca americano ha prefigurato per il nostro futuro futuro da qui loro l'hanno prefigurato al 2030 e cioè che nelle case che si costruiranno non ci saranno più cucine non si cucinerà più ci sarà un microond e un bollitore perché secondo la ricerca americana perché le persone consumeranno fuori il pasto fuori o se lo faranno portare a casa non ci sarà più la necessità di avere i fuochi ripeto mi sembra molto azzardata forse per un modello di vita americana potrebbe forse avere un senso non credo che questa cosa possa venire da noi però è indubbio che consumiamo sempre di più fuori casa e che cominciamo a farci portare i pasti a casa e questo guardate modifica sensibilmente le caratteristiche dell'imballaggio cioè deve renderlo sempre più sofisticato perché uno deve riceverlo con certe condizioni perché sia non solo genicamente convestibile ma sia gustoso abbia una presentazione quindi tutte queste cose evidentemente comportano anche l'utilizzo di materiali complessi con i quali dobbiamo fare i conti il mio punto di vista è che noi andremo presumibilmente sempre più nella logica di materiali tra loro complessi dove per esempio è pensabile a sostituzioni di baschette per esempio con la plastica sostituite con baschette fatte di cartoncino ma con bioplastica cioè materiali che possono poi avere una loro destinazione finale che può andare a finire nel compostaggio perché sono biodegradabili quindi assolutamente idonee o nello stesso riciclo se queste bioplastiche si trasformano in colle per darvi un'idea della complessità dei contenitori che noi poi utilizziamo e che sono oggetto della modifica dei nostri stili di vita e quindi del consumo che non possiamo comprimere cioè non dobbiamo pensare di entrare in un'età paurotermista perché saremo famiglie sempre più mono un'età che si allungherà sempre di più è una gamma di esigenze che si allargherà per la quale bisogna avere delle risposte il tema di fondo è che queste risposte devono essere finalizzate quindi chi poi progetta deve sapere che la destinazione finale salvaguardando tutte le caratteristiche evidentemente di qualità che deve avere ciò che viene contenuto però la destinazione finale deve essere garantita garantita dal punto di vista di una rigenerazione che sia poi un ammendante per l'agricoltura che sia invece un materiale che viene rigenerato per produrre nuove cose va benissimo ma dobbiamo metterci in testa che non sarà più possibile immaginare progettare e creare qualcosa che deve essere destinato semplicemente a rifiuto questo è un passaggio rilevantissimo che fa la differenza tra l'Europa e gli altri continenti perché questa è una differenza essenziale il modello europeo ragiona in questi termini e dal punto di vista del sistema industriale commerciale ci si muove in questa direzione pur rimanendo competitivi quindi grandi competizioni si fanno su queste cose queste cose e altre adesso mi riferisco al settore dell'imballaggio perché questo ha a che vedere ogni giorno con la nostra vita ma tornando a noi una volta messo in moto questo sistema e concludo si sono avuti dei risultati qui lo vedete vedete che cosa è successo nel nostro paese nel 98 avevamo un milione di tonnellate raccolte nel 2017 siamo a 3 milioni punto 3 e voi immaginate che noi stimiamo che possa essere possibile ancora incrementare questa raccolta se soltanto pensiamo che nel meridione almeno 600 mila tonnellate di materiale cellulosico finisce in discarica e voi dice tutta questa raccolta beh tutta questa raccolta tutta questa raccolta in buona parte finisce in industria cartaria nazionale è il caso straordinario che dal 2005 non solo siamo diventati autosufficienti ma abbiamo cominciato ad esportare e oggi con l'apertura di tre nuovi impianti che utilizzeranno un milione e duecentomila tonnellate di marcero aggiuntivo sostanzialmente ci ritroveremo ad utilizzare buona parte di quello che esportiamo per invece alimentare la produzione nazionale e sapete perché riaprono tre impianti tutti e tre erano tre cartiere destinati alla carta per stampa fare giornali riviste riaprono guardate i casi interessantissimi che ci pone l'evoluzione la carta da stampa ha un crollo importante significativo per le nuove tecnologie aprono tre cartiere anzi riaprono tre cartiere che producono invece cartone perché le nuove tecnologie cambiano il modo di comprare l'acquisto online quindi la consegna dei pacchi e quindi uno che dice ma è arrivata una nuova tecnologia il settore cartario è finito no vedete che qui si apre una nuova storia che diventa molto interessante con tutte le sue problematiche ma l'acquisto online tenete conto che il nostro paese il fardarino di code in Europa ha nell'arco di 18 mesi avuto un balzo dell'8% per darvi un'idea a Milano ogni mese vengono consegnati 600.000 pacchi e siamo in una situazione ripeto ancora di bassa classifica sono arrivati a Londra e a me sembra un assurdo spero di essere confermato poi anche nel futuro degli stili di vita dei milanesi a Londra la consegna avviene ormai on demand su richiesta io sono dal dentista devo fare la vista mi portate paccolino al dentista cioè non c'è più il problema devo avere il portinaio o uno spazio che viene realizzato all'interno dei supermercati come è stato fatto attraverso un accordo no chi organizza la vendita online è in grado di consegnartelo dove tu sei in quel momento ripeto mi sembra francamente un assurdo nel senso che il tempo della tua vita ha una compressione mi pare un po' troppo eccessiva ma è in dubbio che queste modalità d'acquisto sono modalità che permarranno si modificheranno ma obiettivamente avranno sempre bisogno di contenitori possibilmente i più leggeri monomateriali i meno ingombranti possibile per cui c'è sicuramente un passo in avanti importante che verrà fatto ma è certo che sarà così noi cosa abbiamo fatto con l'Amsa di Milano a fronte dei 600.000 pacchi mensili abbiamo detto sperimentiamo una raccolta di questo cartone che sia fatta proprio specifica aumentando il giro settimanale e sta andando molto bene perché tutto questo questi contenitori che arrivano che hanno anche dimensioni diverse dalla rivista o dalla scatola degli spaghetti trovano un modo di essere intercettati senza dare più di tanto fastidio quindi siamo entrati in una realtà piuttosto importante e significativa e quindi dal punto di vista dei consumi certamente come vedete tutto questo che cosa ha determinato che nel caso della carta e cartone abbiamo già raggiunto e superato anche i futuri obiettivi europei quindi ricordiamoci che dal punto di vista dell'industria del riciclo siamo tra i primi nel mondo poi uno si chiede ma come mai le delegazioni del governo della Confindustria dell'ICE quando vanno nei grandi paesi che stanno guadagnando posizioni su posizioni dalla Cina ad alcuni continenti paesi come nel Sud America ci sono i produttori di automotiva la moda la meccatronica non ci sono mai i settori che si occupano del riciclo ma scusate una città come città del Messico 12 milioni o di più milioni di abitanti avrà pure un problema di gestione dei rifiuti e di valorizzazione degli stessi noi abbiamo il savoir-faire per poter fare queste cose certo che ce l'abbiamo quindi questo è un caso molto interessante per sapere che l'industria di ciclo in Italia è una cosa molto importante secondo per capire che forse dovremmo cercare di valorizzarla di più e quindi molta responsabilità sta negli imprenditori che operano in questo settore per riuscire a diventare anche molto competitivi in quello che è il mercato mondiale mercato mondiale che ha una gamba di opportunità dalla logistica alla realizzazione degli impianti a quella che vi ho detto prima è la capacità di fare le ricette nel caso della carta quindi abbiamo davvero in questo settore molte cose significative molte cose che credo a questo punto possano ricongiungersi con il punto iniziale siamo di fronte a una straordinaria storia dal punto di vista dell'economia anche sociale siamo di fronte a un'esperienza importante credo sotto il profilo ambientale solo la raccolta della carta di cui vi parlavo prima dal 98 ha evitato la formazione di oltre 200 discariche con tutti i costi non solo ambientali ma anche economici relativi ecco quindi che questo tema che si ricollega poi ai due minuti che ogni giorno dedichiamo a fare la raccolta differenziata forse ci può stimolare ecco a riflettere un po' meglio su quel piccolo gesto che però di per sé comporta una serie di reazioni così straordinarie grazie per la pazienza il tasso di occupazione nel settore che ha a che vedere con le filiere del riciclo è aumentato sotto due aspetti rilevanti primo quello che riguarda tutta l'area della logistica che è connessa alla raccolta e al trattamento quindi provate a immaginare che cosa è avvenuto nel momento in cui abbiamo costituito questa rete delle cosiddette raccolte differenziate il personale che va a ritirare e poi il personale che deve selezionare il materiale all'interno delle piattaforme quindi qui abbiamo registrato un significativo passo in avanti l'altra area molto importante è quella che ha determinato la formazione all'interno delle aziende aziende di tutti i livelli di quelli che sono le figure professionali dei responsabili ambientali è cambiato notevolmente l'organigramma e queste figure man mano che passa il tempo penso soltanto a quelle all'interno delle aziende che si occupavano dell'acquisto dell'imballaggio una volta era semplicemente un ufficio acquisti che si proponeva di acquistare l'imballaggio oggi è radicalmente in via di cambiamento non c'è solo un problema di acquistare l'imballaggio c'è un problema anche di sapere quali sono le caratteristiche ambientali tutto quello che ha a che vedere con la tracciabilità per arrivare a produrre quel determinato imballaggio i materiali che sono usati è un settore che ha una grandissima evoluzione così come grandissima evoluzione tutta quell'area che è legata al design dei contenitori quindi questo certamente è un comparto ma lo dicevo forse prima quando parlavo in generale dell'industria del riciclo che ha non solo un segno più al fatturato ma un segno più anche all'occupazione certamente se la domanda è all'interno delle cartiere e lì è avvenuto invece un processo di forte tecnologizzazione nel senso che le macchine hanno come si può dire rimpiazzato alcune figure come quello dell'assaggiatore che vi dicevo della carta non ci sono più evidentemente perché le macchine l'hanno sostituito che cosa ha determinato sul lavoro mi permetto di segnalarlo perché questo è un aspetto molto importante che è legato alla dignità del lavoro fino a secolo scorso parlo del settore delle cartiere il lavoro in cartiera era visto come un lavoro che non aveva un profilo dal punto di vista sociale identificabile è avvenuto un cambiamento culturale che non si è ancora completato ma di cui per esempio i sindacati con grande ritardo non parlo degli imprenditori perché lì poi si apre tutto un altro capitolo ma il sindacato poteva essere forse un pochino più attento con grande ritardo comincia a rendersi conto che siamo di fronte a unità che svolgono un lavoro anche di tipo socioambientale cioè riciclare se fatto nelle regole evidentemente vuol dire fare un'attività che ha anche una sua rilevanza dal punto di vista sociale tant'è che noi abbiamo per aiutare diciamo e sviluppare questo tipo di riconoscimento identitario abbiamo avviato da dieci anni l'operazione riciclo aperto invitando le aziende ad aprire gli impianti in modo che i dipendenti possano portare le famiglie a vedere quello che fanno ma anche la comunità cittadina che poi in realtà sono gran parte sono le scuole che arrivano vanno in cartiera o in piattaforma e vedono quello che succede perché ancora oggi molti pensano ah ma fanno la raccolta poi tanto mischiano tutto e lo mandano in discarca è una sonora balla anche perché nel caso nostro specifico mi pare di avervi dato i fondamentali che riguardano l'economia è una necessità è una materia prima seconda indispensabile a poi tenete conto che noi bonifichiamo come vi dicevo prima 110 milioni di euro e non è che si faccia con leggerezza un bonifico se non c'è la certezza che quel materiale è arrivato alle condizioni predefinite per essere poi industrialmente rigenerato quindi questa operazione dicevo di aprire gli impianti sta servendo a dare maggiore identità a chi ci lavora perché sta facendo un lavoro che è utile anche per la comunità ma anche serve per aiutare a sfatare alcune idee a proposito di come poi viene destinato lo sforzo del cittadino cioè a essere mischiato tenete sempre conto questo per chiudere il punto che riguarda il lavoro è un tema così significativo che nel caso della raccolta differenziata noi abbiamo avuto due indicatori interessanti il primo è stato quello di credere che con la raccolta differenziata ci sia un indicatore quantitativo per misurare le abitudini le buone abitudini degli italiani se volete il senso civico e noi ogni anno ogni due anni teniamo un rapporto che è gestito da Ipsos per verificare quello che succede e vi confermo che laddove si fa la raccolta differenziata le abitudini di quelle comunità hanno uno standard superiore c'è una abitudine sociale nel comportarsi in un certo modo che aiuta tant'è che una delle prime questioni e qui parlo dell'immigrazione regolare le prime questioni è insegnare a fare la raccolta differenziata a chi arriva nel nostro paese ed è abituato invece a lasciare per strada quello che ha tra le mani è una cosa molto importante è uno dei primi passaggi essenziali che si devono secondo noi fare perché proprio fa scattare e diventa anche molto importante dal punto di vista della competizione turistica chi arriva in una località anche bellissima ma poi si accorge che in questa località non sono in grado di fare una gestione dei rifiuti seria non ci torna un'altra volta quindi quei comuni che si attrezzano qui in particolare la vicenda del sud lo fanno anche perché hanno la possibilità di essere più competitivi e questo è il primo punto il secondo punto è quello di come si determina attraverso questo rapporto della raccolta differenziata una relazione con l'industria che sta sul proprio territorio nel caso della raccolta della carta evidentemente con la piattaforma e soprattutto con la cartiera questo è fare coesione ma anche aiutare a fare la competizione cioè essere competitivi poi sul mercato ed è un grande tema che riguarda secondo me partendo dal settore che io conosco per il quale lavoro un grande tema che riguarda questo nostro paese cioè essere coesivi cioè riuscire a fare comunità e a fare competizione quando riusciamo a stabilire questo giusto dosaggio è difficile battere gli italiani italiani sono molto molto forti se riescono a fare questo ma intanto una considerazione sui giovani e questo non tanto per ricordare le recenti manifestazioni che sono partite dal nord Europa ma non so se voi avete notato che sempre di più tra i giovani si diffonde l'uso della borraccia una volta li vedevamo tutti con la bottiglietta d'acqua guardate con attenzione sta cominciando a diffondersi la borraccia e questo è un segnale dal punto di vista dei comportamenti molto importante perché vuol dire che c'è stato un momento di riflessione e quindi per ritornare sull'argomento cercherei di partire da alcuni elementi che rappresentando in particolare nuove generazioni a mio modo di vedere ci possono fare anche ben sperare perché un conto è avere una come si può dire un'esperienza di vita molto consolidata eccetera anche con dei cambiamenti che si possono sempre fare però con tutte le complicazioni del caso l'altro è intuire che ci sono alcune tendenze che stanno consolidandosi come quella che vi dicevo prima quello che noi cerchiamo di fare è certamente dare il massimo supporto soprattutto alle giovanissime generazioni perché è proprio quella fase di vita dove si determinano cambiamenti così significativi che mettono anche in serio imbarazzo i genitori cioè il bambino è quello più attento in assoluto e mette in imbarazzo i genitori per sé non si comportano bene nel fare una certa cosa quindi questa è l'area su cui cerchiamo di dare una mano evidentemente soprattutto alla scuola agli insegnanti tutto quello che 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 ruota che ruota attorno in particolare cercando di portarli concretamente a vedere quello che succede dopo che hanno fatto quella prima scelta che è il differenziale e questo può avvenire o andando direttamente all'interno degli impianti o attraverso quello che abbiamo realizzato che è una sorta di ciclo del riciclo che facciamo girare in tutta Italia che quindi è uno spazio di oltre 200 metri quadrati che allestiamo e permette quindi la visita per diversi giorni in alcune città dove lì senza andare nell'impianto però si riesce ad avere l'apprezzazione netta di che cosa avviene all'interno del mondo industriale nel caso specifico di cui stiamo parlando cioè del comune potrebbe essere molto interessante mettersi poi d'accordo con gli educatori con l'amministrazione e immaginare nel prossimo futuro di fare una visita a un impianto perché qua attorno ne possiamo trovare e quello può diventare se già non l'hanno fatto una bella occasione per vedere concretamente le cose che vi ho raccontato io ho tentato di raccontarvi io prima e questo è un primo passaggio secondo passaggio che credo che sia molto significativo qui riguarda già quella fascia generazionale che si affaccia al mondo del lavoro e metterli in condizione se hanno delle idee di accompagnarli nella creazione o nella progettazione noi abbiamo costituito quello che si chiama Comieco Factory che ha proprio come obiettivo quello di accompagnare chi ha delle idee quindi nel campo della invenzione della preventazione o della organizzazione evidentemente connessa al mondo che trattiamo noi questo è un altro passaggio che crediamo molto importante perché essendo un sistema di tipo consortile questo può dar vita a delle opportunità che certamente sarebbero forse un po' più difficili se ci fosse un'azienda che si muove in prima persona per esempio noi tra poco renderemo noto un prototipo che abbiamo realizzato che è un contenitore che va proprio nella direzione che vi raccontavo prima e cioè del cibo portato a casa quindi le caratteristiche che questo prototipo ha dovrebbero essere compatibili con le esigenze di chi acquista ma poi anche con la destinazione finale del contenitore una volta che è stato utilizzato questa è l'altra parte che potrebbe diventare anche molto interessante quando uno parla di economia circolare vasto programma chissà dove andiamo a finire qui abbiamo visto un settore specifico con gli aspetti economici ho tentato economici sociali culturali ma economia del riciclo vuol dire riuso lo sa bene perché io avanzai una proposta quando era magenta dove c'è un'area industriale di smessa enorme che è una delle secondo me ipotesi di lavoro più interessanti è quella di creare una cittadella di riuso perché è ben vero che siamo tentati e molti poi lo fanno di gettare via ma anche perché non sappiamo dove andare a mettere a posto le cose io sono convinto che se si riuscisse ad organizzare una vera cittadella dove uno sa che entrambi ha l'artigiano che gli mette a posto il televisore il cellulare dico cellulare perché io ho mia moglie che va da Pino il cinese perché è noto perché Pino il cinese vicino a casa mia abita in Costumone fa questi lavoretti ma io voglio ogni tanto che pure anche lei di tendenza sarebbe per buttare via ferro tastino non funziona e gli dico ma metti la posta ma dove vado allora quello che voglio dire è che questo tipo di economia è un'economia che se fosse organizzata e trovasse un luogo io penso che non mancherebbero i clienti perché tra l'altro le stesse aziende secondo me comincerebbero a preoccuparsi della programmazione come organizzano oggi che sono programmati per durare e poi lo butti via il problema è che lo continuano a fare perché non c'è una risposta diversa pensiamo alla possibilità che ci sia una risposta diversa semmai partendo da un luogo circoscritto o alleandoci con tutti quei pino cinesi che ci sono in giro mettiamoci d'accordo vediamo se riusciamo a concentrarvi questo per dire che sono tanti gli aspetti quando si parla di economia circolare che hanno a che vedere anche con delle nostre come si può dire potenziali domande che però non riusciamo ad esprimere perché non c'è qualcuno che vi riesce ad esprimere anche andando su questa cosa perché uno può dire vado qui lo cerco poi vado non è la stessa cosa che organizzare un luogo fisico dove tu sai che se vai trovi A, B, C, D, E con tutte le caratteristiche del caso per venire invece alla questione di Atlas il lavoro che è stato fatto parte da un presupposto noi chiediamo due minuti al giorno agli italiani per fare la raccolta differenziata sono pochi ma però anche una gran rotura di base perché uno deve cominciare a dire dove è la casa sei secchielli e dove metto i sei secchielli e poi non ci stanno bene ci sono anche dei problemi obiettivi non è che adesso siamo diventati tutti dei missionari del verde allora la domanda che ci siamo posti noi è ma le case degli italiani sono costruite o riamodernate pensando anche a questa cosa la risposta è no non sono fatte così e anche le cucine degli italiani tentano a pensare in questo modo questa è l'origine di Atlas e quindi su questo abbiamo avviato con Boesio un lavoro per dare un segnale per esempio all'interno delle amministrazioni comunali quando si fanno i regolamenti parlo di tutte alcune le fanno lo so anch'io ma si pongono il problema della raccolta differenziata per esempio Napoli per me Napoli è stato un disastro inizialmente perché loro hanno i parchi condominiali è un disastro un parco condominiale è come entrare in una fabbrica quelli io devo mettere il carrello ma non se ne parla neanche deve stare su marciapiede quindi situazioni non sto scherzando quindi il problema dice ma regolamento comunale non dice niente regolamento comunale allora il lavoro che si è pensato che si è fatto è stato quello di dire ma quali sono i punti su cui possiamo rendere più semplice la vita c'è il problema dei regolamenti comunali c'è il problema delle autorizzazioni quindi piani di sviluppo urbano prendiamo Milano Milano ha il grande tema delle aree della ferrovia di Smesse si pensa è un sviluppo importantissimo e allora abbiamo detto ma scusate mentre pensiamo a questi progetti non possiamo introdurre anche qualche regola nuova per esempio il tema della raccolta differenziata non possiamo immaginare che tutta la nuova edilizia che evidentemente riguarda aree molto estese quindi diciamo dei 5.000 abitanti residenti in su perché è un numero che potrebbe fare testo in termini economici hanno l'obbligo di organizzare internamente la raccolta differenziata per posta pneumatica o a Milano ci sono due torri ma sono le torri dei cacciatori cioè costano una follia non ce la potete almeno io non la posso permettere i cacciatori sì e come queste due torri che sono a porta nuova come sono organizzate allora ad ogni piano sono due appartamenti particolari molto costosi però questo piano ha una specie di vestibolo con una specie di passadivande con 5 pulsanti che rappresentano tutti i diversi materiali che uno deve mandare alla raccolta differenziata o all'indifferenziato va mette schiaccia scende scende ci sono dei container dei cassoni che si riempiono cosa fa l'AMSA? il mezzo dell'AMSA che fa bestegnari milanesi quando non lavora di notte ma verso le 9 del mattino che blocca le vie non blocca più le vie scende giù perché? perché è stato attrezzato in modo tale che i container o cassoni sono svuotati in una superficie sotterranea che non disturba nessuno i tempi che l'AMSA risparmia quindi il costo del personale del mezzo notevolissimi allora tornando ad Atlas un'altra idea è quando si fa progettazione di queste aree cominciare a pensare di mettere queste io voglio aggiungere un'altra che non passerà mai ma scusatemi degli oneri di urbanizzazione possiamo introdurre il concetto non dico di eliminare tutti i box perché c'è sempre il problema del parcheggio ma facciamo che introduciamo una norma per la quale si fanno 50% box e 50% orti urbani per cui io vado ad abitare in questa cosa posso scegliere se voglio il posto auto o voglio avere il mio ortello da coltivarmi non è un'idea per così non passerà mai ma per dirvi quando entriamo in questa dimensione è evidente che ci sono delle grandi opportunità che hanno a che vedere con la qualità della vita la raccolta differenziata è una di queste lo stesso con chi produce le cucine ragioniamo un attimo come sono fatte queste cucine vedo che adesso stanno cambiando alcune cose però è evidente che uno sforzo in questa direzione va fatto di solito voi chi legge io per la schiera lo devo fare sono tutte le riviste avete mai visto questi chiamiamoli così testimonial VIP che vi fanno vedere nella loro casa ma qualcuno vi fanno vedere il frigo cosa ho il frigo e se voi chiedete ma fammi vedere un po' cosa hai dove metti la roba per fare la raccolta differenziata e lì potrebbe diventare interessante perché tu vai a vedere come uno è organizzato e quindi capisci anche che però ci sono dei problemi ecco il tema di Atlas è questo dentro il lavoro di Atlas ci sono alcune proposte che vanno in questa direzione una di queste la più importante di queste è vedere se riusciamo a far transitare questo stimolo all'interno dell'accordo nazionale che come consorzi quindi conai tutti i consorzi di materiale stiamo adesso rivedendo con l'anci potrebbe anche essere che ci si mette anche qualche soldino da parte dei consorzi per aiutare perché evidentemente è un beneficio che va poi per tutti se miglioriamo le cose però questo per rispondere è l'obiettivo qui ci siamo a dare Grazie.